Come era assolutamente prevedibile, anche oggi, con la corsa delle 13.30, con gli studenti che sono arrivati, i ragazzi che da peristrina vengono a studiare a Chioggia, e ci sono stati attimi tensioni. Infatti, come al solito, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, i comandanti di Vaporetti hanno anche degli obblighi proprio che non possono imbarcare più di tante biciclette, e questa mattina è scattata la protesta, praticamente, c'è stato anche lì un minimo di traferruglio, perché qualche studente ha messo la bicicletta di traverso impedendo ad altri di salire, in pratica, c'è stato l'intervento, ancora una volta, delle forze dell'ordine, e quindi una situazione assolutamente, diciamo, un'ulteriore criticità. Purtroppo, questo è anche in seguito a quello che è successo qualche giorno fa, quando quel comandante, quando quella ragazza ha saltato la fila ed è montata a bordo, invece di essere, diciamo, redarguita e denunciata, per quanto riguarda, perché il comandante poteva tranquillamente bloccare la corsa, fare arrivare le forze dell'ordine come sono arrivate, e praticamente denunciare la ragazza per interruzione di pubblico servizio. Se avessero fatto così, molto probabilmente, oggi non avremmo lo stesso tipo di problema. Ovviamente c'è una criticità, c'è un problema, ma non è certamente prendendosi con i comandanti dei Vaporetti che si risolvono i problemi. Se c'è bisogno di caricare più biciclette, i ragazzi di Perestrina dovrebbero prendere i loro genitori, hanno un consigliere comunale di Perestrina che è dentro la giunta, dentro l'amministrazione di Brugnaro, l'Alessandro Scappamarta, e chiedere che vengano fatte più corse per portare più biciclette. I comandanti non si sottrarrebbero assolutamente a dare un servizio a questi ragazzi, che poveretti, anche loro c'è tanta strada per arrivare a casa, quindi effettivamente sia dall'imbarcadero arrivare a scuola e da scuola poi arrivare a casa, certamente c'è questa necessità. Però, ripeto, non si risolve il problema con la maleducazione, con il mancato rispetto delle regole, e soprattutto prendendosela col personale di ACTV che fa solo e semplicemente il loro lavoro.